Ciao Ciao Io sono la pilota Tu chi sei? La pilota Un quadra che sto guidando Andiamo indietro Andiamo indietro Abbiamo la Deborah che guida guagliò Aiuto Aiuto Ahaha Wuhuu Oh La Deborah è passita E' passita la Deborah Guarda vai Guarda vai Eh Eh Oh Ah 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 Giochiamo! Già di cercare! Allora, giusto? Allora a due, due, due! Grazie! È piccola! Brava amore! Continua così! Sì amore! Poi mettere così ai detti! Oh Sivo! Sivo! Vengono questo! Pregnata! non si è pregnato guarda la parte guarda la parte eeeh come è? guarda che bella vita ma Deborah che sgomma Deborah come? come fa il tela? si e putti vai vai buttati vai buttati no no vai lateralmente Ale vai ti finirà a prendere vai Ale vai vai tieni vai piano vai piano vai piano io? io? oh mammaare 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 oh non puoi mettere l'alto oh che cazzo oh il salvagento il salato oh ma chi è? è calda è calda di brucia che buono ti sei fatto? mammaare oh è spento il motore? oh cio Ale che è acceso è acceso va bene saluta chiudi dai salutiamo tutti grazie grazie ad Ale guardiamo ad Ale che sta arrivando aspettate che torna su va dai facciamo un saluto tutti insieme che adesso Ale mi cagliono scuola adesso è spento? oggi che è acceso eh vediamo giù la scuola è brava a guidare comunque sono la migliore sul campo anzi sull'acqua mi ha fatto male ha fatto male il culo di Umberto che grasso che è diventato vai spegni sto video ciao ciao